Grazie Presidente, poi se mi dice quando posso avere l'opportunità di replicare alle pesanti accuse che mi sono state fatte precedentemente Intanto illustri il provvedimento Sì, il provvedimento come dicevo prima è volto a tutelare gli animali Scusate non trovo molto le parole perché trovo sia stato veramente un attacco meschino da parte di questa presunta maggioranza Perché penso che sia stato un attacco meschino caro Pane Caldo? Perché io a differenza vostra non è che campo da vent'anni di politica e quindi non ho bisogno di mezzucci per andarmi ad accaparrare le preferenze Se noi siamo diffidenti nei vostri confronti è perché 20 miliardi di euro di debito di Roma Capitale di certo non li ha fatti il Movimento 5 Stelle ma l'hanno fatta l'amministrazione Rutelli e Veltroni in particolare Per quanto riguarda la mozione di Ciampino, caro Presidente De Luca io oggi alle 11.35 ho avuto l'ufficialità della sua convocazione della Commissione e quindi ieri in capigruppo non potevamo sapere che la Commissione Ambiente stava andando in quella direzione se lei magari pensasse a condividere ufficialmente quelle che sono le azioni della Commissione con i commissari, con quei pochi commissari che vengono alla Commissione Ambiente che sono stati sempre presenti e sono sempre stati accanto a lei quando si trattava di argomenti importanti magari sarebbe stato opportuno se noi ci stiamo divertendo tanto a fare questo esercizio di stile a presentare 3, 4, 5 mozioni per ogni saluta dell'Assemblea Capitolina è perché voi in un anno, anzi neanche in 6-7 mesi non avete prodotto neanche mezza delibera e non avete fatto nulla, avete fatto solamente proclami basta pensare alla delibera sulle unioni civili basta cercare su Google delibera un'unione civili PD c'è scritto delibera unione civili verrà approvata entro la fine dell'anno però non è specificato quale anno quindi invece di scagliarvi contro 4 cittadini che tentano di portare un po' di trasparenza in questa amministrazione oggi siamo stati costretti ad andare dal prefetto per dirgli caro prefetto non siamo messi nelle condizioni di esercitare il nostro mandato perché ci sono 3 commissioni in contemporanea e in 5 luoghi diversi perché vengono convocate le commissioni anche solo per fare lettura e approvazioni verbali ditemi voi se non si può fare una lettura e un'approvazione di un verbale alla fine di un'altra commissione e quindi invece di scagliarvi contro di noi che sarebbe facile o forse mi viene di pensare che c'è un po' di invidia nei nostri confronti perché noi siamo liberi, perché noi non siamo legati a nessuno e magari noi siamo quello che voi sareste voluti essere e non potete perché siete all'interno dei meccanismi di partito per fortuna non veniteci a fare la morale a noi perché se l'Italia è in declino, è in default non è certo per colpa del Movimento 5 Stelle ma è per colpa di una finta maggioranza e di una finta opposizione grazie 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 grazie